Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti, è sempre Forza Juventus. Allora, si è completato il turno infrasettimanale delle partite, parliamo della Juventus. Per me la partita di Salerno non mi ha dato nessuna risposta, non mi ha dato niente. Siamo sempre lì, abbiamo giocato contro la più scarsa del campionato. Cazzo, se non vincevi pure a Salerno stavamo proprio rovinati. 2-0, va bene così, sono contento perché abbiamo mostrato la classifica di 3 punti, non più di tanti. Da 21 siamo saliti a 24 punti. A pensare solo a quella quattordicesima giornata abbiamo 24 punti. Mamma mia, come passano in fretta i ricordi belli. I ricordi belli possono passare proprio in fretta, veloce. È una cosa incredibile. Oramai siamo nel clou delle notizie negative. Che poi giustamente sulla Juventus, quando la Juventus o va male, oppure magari c'è sotto sotto qualcosa a livello di giustizia sportiva, tutti i cani, i randaggi e i cani stanno su addosso come gli avvoltoi. Sai, quando vedono il marcio, quando vedono il putrefatto, sono tutti avvoltoi. Non c'è niente da fare. Comunque, io spero sempre che nel discorso plusvalenze non è giusto che paghi solo la Juventus. O pagano tutti o nessuno. Perché si è capito che sulle plusvalenze stanno messi di mezzo il Napoli, l'Inter, l'Iuventus, il Genova, la Sampdoria. Comunque, se devi danneggiare solo la Juve, perché magari, che poi non vale nemmeno la pena, perché per come sta andando, a che serve che tu danneggi la Juve? Non serve a niente. Oppure tutti quanti, tutti. Non come avete fatto nel 2006, come nel 2006 avete preso la Juventus come capo espiatorio e l'avete mandato insieme a B. Io penso che stavolta non succederà. Però, su questa storia, sta sempre la mano di John e Lapo Elkan, cazzo. Come si sono comportati nel 2006 contro la Triade, stanno facendo la stessa cosa anche contro Agnelli. per cacciare miseria. Si due ragazzi, quando si mettono contro qualcosa, pure di collaborare con la giustizia, pure di avere una pena penale, cazzo, l'importante è che loro dicono che basta che buttiamo fuori Agnelli, poco dopo quello che succede, succede. Ripartiamo l'altra volta da zero. E invece non è così. Non è così e non deve essere così. Ragazzi, e poi, giustamente, durante la partita, avevo detto già prima, non è stata una partita che mi è entusiasmata molto. Non, diciamo, sì, come ho detto prima, mi sono contento del risultato, ma per la prestazione lasciamo stare. E voglio rispondere a un amico quando lui mi ha detto, sì, ma pure se cambia Allegri, la rosa è scarsa, la rosa è quella che è, ma sono d'accordo, ma tu devi cominciare dall'allenatore. Cominci dall'allenatore a cambiare allenatore, mandalo via e prendi un allenatore più capace. Poi dall'allenatore più capace riesci a costruire una squadra come lui vuole. Ma fino a quando hai un allenatore meteo e una squadra scarsa non puoi andare da sua parte. Ma la cosa che mi fa rabbia è pensare che tutto ciò hai distrutto, tutto ciò, in nove anni. Tutto ciò che di buono hai fatto in nove anni, l'hai mandato in aria. Por caccia di miseria, stiamo diventati peggio, 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 della Juventus del Neri, la Juventus di Ferrara, la Juventus di Zaccheroni. Peggio, peggio, peggio di quella Juventus lì. Por caccia di miseria. E per finire vi faccio una domanda. Io ieri ho visto la partita Sassolo-Napoli. È stata veramente una grande partita. Si è corso tutti i 90 minuti. Anzi, la partita si è decisa più nel secondo tempo che il primo. Però è stata lo stesso una grande partita. E come dico sempre, la squadra per vincere il campionato deve avere tre ingredienti. Deve avere la squadra, deve avere fortuna e poi deve essere aiutata. Il Napoli la squadra ce l'ha, che gioca bene e questo si sa. Ha fortuna, perché ha molta fortuna, però vi faccio la domanda. Ditemi il gol annullato del Sassuolo, quello che fallo è. Quello non è fallo. E per questo hanno annullato un gol al Sassuolo regolare, perché lo devono aiutare a vincere il campionato quest'anno. Perché quest'anno è l'anno del Napoli. Punto e basta. Come vada a vada, in un modo o nell'altro. Ci vuole squadra, che la squadra gioca bene. Ci vuole fortuna e deve essere aiutata. Ieri, con il risultato di ieri, il Napoli è stato aiutato. 3-2 per il Sassuolo, gol annullato, per il fallo che ha fatto quel frocio, come cazzo si chiama, che ha fatto fallo, che per me quello non è fallo. Che fallo è? Il giocatore perde il pallone, si butta a terra e fallo. Ma dai. Ciao, a voi i commenti. Mi raccomando l'iscrizione e sempre forza di Windows. Ciao, a voi i ciao.